Vieri usciva a vuoto e Sabadini con un ottimo stacco infilava di testa. L'errore di Vieri era determinante agli effetti della segnatura. Lo si può notare meglio da quest'altra ripresa filmata. Il tempo finiva così sull'1-0 con l'Inter che appariva piuttosto nervosa. Il secondo di Benetti che infilava la rete da circa 30 metri. Per Benetti è questo il quarto gol in dieci giorni dopo quello in Coppa delle Coppe con lo Spartak di Musca e i due contro la Fiorentina.